Chi erano i grulli? Vabbè ma i grulli erano i contadini che portavano le vacche il giorno di Pasqua Ora te ne vado a narrare meglio Lo scoppio del carro è una tradizione pasquale che a Firenze si svolge da molti secoli Ed erano due le famiglie che si occupavano dell'evento I pazzi e i del borgo Proprio quest'ultimi avevano la mansione di trainare il brindellone fino a piazza Duomo E le mucche che lo trascinavano erano governate da due contadini Detti appunto i grulli Quando questi contadini arrivavano in Duomo Erano sporchi, puzzolenti, vestiti male E venivano presi in giro da una folla Che invece per l'occasione era tutta elegante e raffinata Da quei momenti il grullo l'è vista come una persona un po' stolta Un sempliciotto, un terra terra Ma il mondo c'ha bisogno dei grulli I grulli salveranno questo pianeta Perché il grullo l'è imprevedibile Tutti possono aspettare tutto da lui Dipende da come si sveglia Ognuno di noi ha un po' di grullaia qui dentro In questa zona Allora solo tirava fuori Perché lo sa come si dice a Firenze no? Se non sono grulli E non si vogliano Buona Pasqua, Tato!